Benvenuto e benvenuta in questo nuovo video del Laboratorio di Excel per Tutti. Mi chiamo Damiano Causale e in questo video ti mostrerò come fare la somma Excel tra più fogli di lavoro. Bene, entriamo all'interno della nostra cartella di lavoro e andiamo a osservare qual è la struttura di questa cartella. Innanzitutto abbiamo 12 fogli di lavoro, o meglio 13 con il riepilogo, da gennaio a dicembre. Ciascun foglio contiene i reparti, 4 reparti e 4 regioni. Quelli che vedi sono le quantità prodotte da ciascuna regione per il relativo reparto. Reparto A, reparto B, reparto C e reparto D. Ora, cosa vogliamo fare? Vogliamo inserire all'interno del foglio di riepilogo la somma di tutti i fogli di lavoro. Ovviamente non possiamo procedere nel modo seguente, ovvero non possiamo inserire l'uguale, fare un clic sul foglio di gennaio, selezionare la cella C6, aggiungere il simbolo del più, poi fare un clic su febbraio, fare un clic sulla cella C6 e così via. Perché non possiamo procedere? Perché questo diventa, tra virgolette, rischioso, andiamo incontro a degli errori, rischiamo di omettere la selezione del foglio e di non essere sicuri che il totale sia corretto. Ecco perché voglio mostrarti un piccolo trucco per lavorare con più fogli di lavoro e fare dei calcoli, che possono essere la media, la somma o quello che desideri, tra più fogli di lavoro. Dunque, procediamo in questo modo. Ora cosa faccio? Seleziono l'intero intervallo, partendo dalla cella C6. Ovviamente i fogli hanno tutti la stessa struttura, la posizione è identica per tutti i fogli. Per il foglio di riepilogo ovviamente non è necessario, potresti posizionarti in qualsiasi punto. L'importante è che però i fogli da gennaio a dicembre abbiano la stessa organizzazione dei dati. Ora inseriamo il simbolo dell'uguale, richiamiamo la funzione Somma, doppio clic. Ora faccio un clic sul foglio di gennaio e poi successivamente un clic sulla cella C6. Ora tengo premuto il tasto delle maiuscole e faccio un clic sul foglio di dicembre. Come vedi Excel ha selezionato tutti i fogli che vanno da gennaio a dicembre. E nella barra della formula troviamo la scritta gen due punti dicembre, dunque da gennaio a dicembre, dal foglio gennaio al foglio dicembre, punto esclamativo cella C6. Vuol dire che andrà a sommare tutte le celle tra i fogli da gennaio a dicembre e tutte le celle C6 da gennaio a dicembre. Dunque ora non andiamo a dare l'invio ma utilizziamo la combinazione di tasti CTRL INVIO perché abbiamo selezionato un intero intervallo. Ora per estendere la formula da una cella a tutte le altre, visto che abbiamo selezionato in partenza un blocco, premiamo CTRL INVIO e come vedi la formula, la funzione viene estesa a tutte le celle. E in questo modo abbiamo ottenuto il totale di tutti i fogli di lavoro in pochi e semplici passaggi. Questo ovviamente è un piccolo trucco che ti suggerisco di utilizzare quando lavori con più fogli di lavoro. Bene, siamo giunti alla fine di questo video, spero ti sia stato utile. Se non ti sei ancora iscritto al canale iscriviti per restare aggiornato, per rimanere aggiornato sui prossimi video. E ti aspetto al prossimo video! Grazie!